Alla dogana di Ponte Chiasso dopo il parere dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e su ordine del prefetto di Como è stato respinto un carico di rottami proveniente dalla Svizzera che presentava dopo i controlli anomali livelli di radioattività. E' stato attivato il protocollo di sicurezza e il materiale è stato posto in un'area isolata.